Bene raga dal vostro Zedcastle e bentornati alle video recensioni di Il Trono del Re come prima cosa mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la maledetta campanellina così vi arrivano le maledette notifiche e non vi perdete neanche un contenuto allora il fumetto che vi racconto oggi è Undiscovered Country volume 2 unità di Scott Snyder Charles Hawley, Giuseppe Camoncoli, Grassi, Wilson, Crank, The Salda, Presa, BOOM! Allora ragazzi finalmente arriva il secondo volume di Undiscovered Country probabilmente la serie Image più di successo dell'anno scorso tra quelle arrivate in Italia assolutamente molto interessante, una serie per noi anche importantissima perché parla italiano visto che il disegnatore è Camo, Giuseppe Camoncoli, coadiuvato come finisher da Leonardo Marcello Grassi che tra l'altro abbiamo avuto ospiti qui su Lega Nerd ma anche due scrittori che io personalmente adoro Scott Snyder e Charles Hawley che veramente sono in un periodo di creatività assolutamente molto florido ebbene finalmente con il secondo volume cominciamo ad avere uno sguardo un po' più approfondito su quella che è la vera situazione degli Stati Uniti un paese che a un certo punto si è chiuso completamente al mondo e per oltre 30 anni non ha più avuto alcun tipo di contatto chiudendosi dietro ad un muro, trincerandosi dietro ad un muro mentre il mondo impazziva, mentre il mondo moriva a causa di questo terribile virus il virus Sky che sta tuttora decimando la popolazione un gruppo di, chiamiamoli avventurieri perché di fatto è un po' quello il concetto tipo da Compagnia dell'Anello, la classica fellowship da storia fantasy che si recherà negli Stati Uniti dopo aver ricevuto questo misterioso messaggio con la disponibilità di una cura finalmente sta cominciando ad intuire un pezzo di verità per volte quindi parliamo di Pavel Bukowski parliamo soprattutto di Valentina Sandoval, giornalista abilissima nell'utilizzo dei droni parliamo di Ace Kenyatta, uno storico profondo conoscitore della storia degli Stati Uniti Chang Englou della prosperità panasiatica e Janet Worthington dell'altra alleanza che è l'alleanza euro-africana e i due fratelli Charlotte e Daniel Graves che sono peraltro i figli di due delle persone chiave per risolvere questo grande mistero nel primo volume, Destino, si è affrontata la prima zona appunto questa zona quasi post-apocalittica in cui l'uomo del Destino, questa creatura particolare con tutta l'austronauta, con questa chela al posto della mano sembra essere intenzionato a perseguire uno scopo misterioso ma che man mano ci si sta spalancando davanti sono riusciti i nostri protagonisti a sfuggire alla terribile zona Destino ai suoi mutanti, alle sue lande desolate per arrivare alla seconda zona, la zona Unità e qui il panorama cambia completamente perché ci troviamo di fronte ad uno scenario veramente inaspettato uno scenario quasi privo di colori uno scenario completamente automatizzato dove la tecnologia sembra farla da padrone e in effetti questo è proprio il fulcro e il trucco di tutta la narrazione di Undiscover Country tutte queste divisioni, 13 zone che compongono gli Stati Uniti ognuna è caratterizzata da una propria peculiarità un'attitudine diversa dove la popolazione ha scelto di specializzarsi in qualche maniera in un determinato campo e come ci verrà presentato proprio all'inizio nel flashback iniziale cominceremo a fare un po' la conoscenza di tutte le varie zone la zona Destino l'abbiamo vista la zona Unità stiamo per conoscerla la zona Valore la zona Conquista la zona Capitale la zona Abbondanza ognuna di queste zone all'interno di questa spirale è un percorso, una tappa fondamentale quasi un viaggio iniziatico che il gruppo dei nostri eroi dovrà affrontare per arrivare ad ottenere appunto la cura contro il virus Sky e chissà cos'altro ma in realtà in Discover Country soprattutto in questo secondo volume si fa ancora di più descrizione di quella che è la storia degli Stati Uniti d'America gli autori ci danno una sorta di binocolo di lente di grandimento particolare per trasformare in chiave fantasy una storia che è una storia veramente non conosciuta ai più soprattutto a noi che non siamo americani rendendola assolutamente ricca di elementi caratteristici volume assolutamente action ma cambiano l'atmosfera se nel primo volume ci siamo trovati di fronte a questa ambientazione post-apocalittica quindi una sorta di storia survival Mad Max qui nel secondo volume Unità Unità è appunto una zona caratterizzata dal più importante sviluppo tecnologico ed economico assoluto dove la società è una e unica e coesa dove tutti gli abitanti hanno deciso di concorrere tutti assieme allo scopo del benessere comune tutti fanno parte di un sistema un sistema civile che apparentemente funziona in maniera perfetta ma sarà veramente così? Quali orrori si nascondono dietro a questo apparente scenario idilliaco? Il nostro gruppo non ci metterà molto a scoprirlo e quindi si passa come vi ho detto da una storia di tipo survival post-apocalypse del primo volume ad una storia dei toni molto più sci-fi di fantascienza del secondo volume con richiami anche a tutti quelli che sono insomma racconti che già abbiamo sentito mille volte su intelligenze artificiali sviluppo tecnologico società utopiche basate sull'annientamento dell'individuo a favore della società ma il mistero è ancora grande il mistero è ancora veramente molto fitto e pagina dopo pagina ci verrà svelato in questa che è veramente una storia che sta assumendo sempre più dei connotati interessanti curiosi ci piace veramente tanto mi piace come il disegno di Snyder e Scott sia molto lungo disegno nel senso di scrittura il loro piano va molto lungo li sappiamo sarà una serie di 50 uscite in America quindi qui insomma saranno 5 anni di pubblicazione praticamente quindi sicuramente si vede che hanno già un progetto molto molto avanzato sanno già come andrà a finire ma poi ce l'ha anche già detto il buon Cammo Cammo ai disegni coadiuvato dalle finishing di Leonardo Marcello Grassi è performante assolutamente si vede che deve attaccare il turbo per cui molte tavole sono caratterizzate da una certa essenzialità da un certo mood asciutto però veramente tutte le inquadrature anche i design dei personaggi delle ambientazioni sono molto curate e molto ispirate con un sacco di omaggi anche all'interno troverete un personaggio in particolare che poi viene confermato anche guardatelo eccolo qui viene confermato anche poi in tutto quello che lo studio con i bozzetti che si vede alla fine del volume che addirittura omaggia Conan Man at Arms dei Masters of the Universe e altre cose ci sono anche riferimenti all'universo Marvel Leonardo Marcello Grassi fa un ottimo lavoro di finishing diciamo che in qualche maniera eleva al massimo le potenzialità del disegno di Cammo cercando di assecondarne assecondarne ogni linea filata ogni espressione particolare poi il Cammo è uno che ha uno stile estremamente riconoscibile ma soprattutto bello questo gioco il nostro gruppo si ritroverà a percorrere questa spirale alla fine di scegliere quale sarà la zona degli Stati Uniti deputata a dover rivelare questa grande verità al mondo la verità del progetto Aurora progetto in cui sono coinvolti i genitori di Charlotte ed Enel Graves naturalmente ogni personaggio dallo storico Escheniata alla giornalista Valentina Sandoval ognuno ci metterà del proprio le proprie caratteristiche per portare a galla questa cosa il tutto sempre con un simbolo un oggetto ogni zona ha una chiave un oggetto che è caratteristico di quella zona è caratteristico di una peculiarità degli Stati Uniti la nazione effettivamente citata anche qua all'interno con il più alto tasso di creatività moderna assolutamente al mondo dove quasi tutte le cose sono state inventate nel corso degli Stati Uniti bello bello funziona funziona veramente tanto mi sto divertendo a leggere e sono contento di affrontare un percorso che durerà un po' nel tempo proprio per crescere assieme a questa bellissima serie volume assolutamente di pregio bellissime le lavorazioni in cover in quarta di copertina ci sono anche due variant una è la variant disegnata da grandissimo Matteo Scalera disponibile in tutte quante le fumetterie e l'altra è la variant disegnata addirittura da Charlie Adlard il disegnatore di The Walking Dead disponibile poi sul sito di Soundpress costa 19,90 euro la versione regular e ragazzi tante pagine peraltro sempre dialoghi molto fitti ma assolutamente scorrono molto veloci soprattutto perché c'è un'azione in questo secondo volume ragazzi che è veramente veramente forte potente se vi chiedete che fine abbia fatto l'uomo del destino tranquilli tranquilli tornerà tornerà a far parlare di sé assolutamente una corsa contro il tempo in questi Stati Uniti dove il tempo stesso scorre in maniera diversa e dove tante peculiarità di tante zone dell'America si sono esasperate portando alla luce una verità incredibile questo è Undiscovered Country volume 2 unità Scott Snyder Charles Soli Giuseppe Camuncoli Leonardo Leonardo Marcello Grassi Wilson Crank edito da Saldapress per me veramente una bombetta ciao ragazzi noi ci vediamo alla prossima puntata mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un commento mettete un bel pollicione su se il video vi è piaciuto e condividetelo con tutti i vostri amici ci vediamo alla prossima ciao